Aggressività, il mio cane insegue le macchine, cosa posso fare? Ciao, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. Oggi rispondiamo ad una domanda che mi rivolgono spesso, il mio cane insegue le macchine, cosa posso fare? Sì, è vero, capita più di quanto si possa immaginare. Chiariamo subito una cosa, il cane è un predatore e come tale è normale che insegua le sue prede per cacciarle, ed in questo caso sono le macchine. Il problema è l'espressione comportamentale mal contestualizzata, che diventa pericolosa per il cane stesso. L'istinto predatorio, o meglio l'istinto di caccia nel cane moderno, per via dello sviluppo demografico, si è sopito e quando torna a galla lo fa in maniera compulsiva. si tende a generalizzare lo stimolo, infatti la macchina è sempre l'ultimo step, perché il comportamento emerge prima con le persone che camminano, che corrono, coi pattini, per poi arrivare alle macchine e talvolta ai camion e ai pullman. Comincia in genere con il cane che si mette in allerta, la postura diventa di attenzione al muoversi della persona. Questa prima fase si evolve con un piccolo scatto verso lo stimolo in movimento per arrivare a dei veri e propri agguati. Per risolvere il comportamento ci vuole l'aiuto di un esperto, ma è importante il ruolo del proprietario che si deve accorgere del suo inizio, prima se ne accorge e migliore sarà l'intervento riabilitativo. Seguite questo piccolo elenco per capire se il vostro cane emette questi comportamenti. 1. In passeggiata l'avvicinarsi di uno stimolo in movimento, il cane lo segue con lo sguardo e non lo molla finché le incrociano ne è ultimato. 2. Verificare se in passeggiata il cane ad un certo punto di fronte a uno stimolo si blocca ad un tratto e tende a fare un balzo in avanti. 3. Verificare se il cane di fronte a uno stimolo tende a mordere l'aria e ad avanzare verso lo stimolo in movimento. Se sei di fronte ad uno di questi punti elencati, probabilmente il tuo cane comincia ad avere sensibilità nei confronti degli stimoli in movimento ed è ora di intervenire. Purtroppo non si può parlare in un video di un intervento di riabilitazione comportamentale, perché ogni caso è a sé e come tale merita attenzione, però hai gli strumenti per percepire se il tuo cane possa essere afflitto da questo problema. Spero che questo video vi possa essere stato utile e continuate a seguirci sui nostri canali social e sul nostro canale YouTube.